Ci sono degli eventi che ti cambiano la vita, che ti aiutano a ritrovare la fede perduta, che cambiano il modo di guardare te stesso. Niente sarà più come prima, neanche la tua idea di amore. Sono eventi che modificano il tuo modo di vivere, che trasformano il tuo punto di vista sulla realtà. Non importa da dove vieni e cosa fai, noi parliamo tutti la stessa lingua. E tu sei pronto. The Walking Dead, di nuovi episodi. Ogni lunedì alle 21 su Fox, la casa delle prime.